...incoraggivisa nel suo progetto per la mostra di scienze. Lo sciroppo d'acero è meglio della marmellata. Ho coltivato un pomodoro futuristico fertilizzandolo con steroidi anabolici. Quelli che aiutano gli olimpionici a raggiungere nuove vette di bravura. Gli stessi identici. Questo pomodoro spazzerà via la fame nel mondo. Ancora pomodoro? Sì, grazie. Ragazzo, e il tuo progetto per la mostra di scienze? Ho pensato di indagare sull'effetto del fumo di sigaretta sui cani. Bart, non dare le sigarette al cano. Muoviamoci ora di andare al lavoro, signori. Loro non lo sanno che oggi me la squaglio prima per visitare la fabbrica Duff. Si timbra alle nove, si ritimbra alle cinque. Questo è il piano. Dio, loro non sospettano niente. Bene, alla centrale. E poi alla fabbrica Duff. Oh no, l'ho detto oppure l'ho solo pensato? Mi devo inventare una bugia alla svelta. Homer, stai andando alla fabbrica Duff. Se dalla centrale vuoi scappare al settore 7B, devi andare. Se la maledizione del ragno vuoi anniettare, un verso della Bibbia devi recitare. Non desiderare la... Ehi, quella sembra la principessa Diana. Ah no, 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 è solo un mucchio di stracci. Benvenuti alla fabbrica Duff. Sono certo che tutti voi avete sentito girar voce che una partita di Duff era contaminata da stricnina. Di che cosa? Questo mi giunge nuovo. Ne siete sicuri? Beh, ne parlano tutti. Era anche sulla CNN ieri sera. CNN? No, non lo sappiamo niente. Beh, è tutta una balla, andiamo. Ora, ecco uno dei nostri spot preferiti della birra Duff dei primi anni cinquanta. Solo Duff riempie la vostra zona Q di pura bontà birrosa. Perciò alzate il gomito, su! Più, su! Birra Duff, orgogliosi sponsor di Amos e Andy. Siamo fieri di tutti i nostri spot, ma eccone uno del 1960 davvero speciale. Beh, io direi, signor Vanocore, che se lei conoscesse il presidente, quella sarebbe forse una nota faceta. Ed ora la parola al nostro sponsor. Vorrei cogliere quest'occasione per esprimere la mia passione per la birra Duff. Anch'io vorrei esprimere la mia passione per quella particolare birra. Quello lì non ha mai bevuto una Duff in vita sua. Bene, qui abbiamo Duff, Duff Light e il nostro nuovissimo gusto Duff Dry. Cosa riserva il futuro alla Duff? Diciamo solo che abbiamo un paio di assi nella manica. Per esempio? Ehm, preferirei non toccare questo tasto. E perché no? E va bene, non abbiamo alcuna idea per il futuro. Niente di niente, soddisfatto? No. E' il più importante di tutta la catena e addetto al controllo qualità. Bene, bene, topo, bene, topo, ratto, bene, siringa, bene, naso, bene. Mi lasci dire, lei sta facendo un ottimo lavoro, figlio. Ehi, grazie mille, questo sì che ti dà una ragione di vita. Mh, birra gommosa. Ehi, Barney, credo che ne hai avuto abbastanza. Sei impazzito? Non abbiamo ancora provato la Duff Lampone, la Lady Duff, la Duff Antitartalo. Barney, dammi le chiavi, sei troppo sbronzo per guidare. Ah, benissimo. D'accordo, non mi dai altra alternativa che... Sui norto! Ah, e questo per cos'è? Sto cercando di metterti i gappi! Dacci un taglio. Le chiavi. Chiavi. E va bene, ecco le chiavi. E va bene, ecco le chiavi.